Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, non si conosce ancora il motivo della decisione di dirsi addio. Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano. Prima si rincorrevano le voci, ora invece è ufficiale. Le carte per il divorzio sono state depositate in tribunale. L'annuncio della fine del matrimonio è arrivato a due anni esatti dalla loro unione. Un matrimonio da favola che aveva fatto sognare i fan delle due star ma che è svanito dopo soli due anni. Secondo indiscrezioni, tra i due ex coniugi non ci sarebbe un accordo prematrimoniale. Era già dallo scorso marzo che si parlava di una crisi tra i due, adesso quelle voci sono confermate. La pop star Jennifer Lopez, 55 anni, e l'attore Ben Affleck, 52 anni, sono stati fotografati insieme l'ultima volta a marzo. Unica eccezione a giugno scorso durante una partita a basket del figlio di lui a Santa Monica e, in quell'occasione, si erano scambiati un bacio sulla guancia, circondati dai paparazzi. Un amore a più riprese, i Bennifer si erano conosciuti sul set del film, Amore estremo Tough Love, Gigli, del 2003, ed erano stati insieme una prima volta tra 2002 e 2004 arrivando ad un passo dal matrimonio, annullato però quattro giorni prima delle nozze per via, questa la versione fornita, della, eccessiva attenzione dei media.